Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di FanoTV, oggi è lunedì 22 giugno e siamo in diretta, sono le 7 del mattino per iniziare questa nuova settimana e questa nuova giornata insieme. Grazie come sempre per essere in tantissimi ogni giorno a seguirci, anche oggi abbiamo selezionato le pagine più interessanti da commentare, da farvi vedere, c'è la cronaca ma c'è anche la politica, infatti notizia di queste ultimissime ore che anche il centrodestra ha il suo candidato governatore che sfiderà dunque quello del centrosinistra Maurizio Mangialardi. Vedremo tra un istante chi è e chi sarà questo politico. Andiamo invece adesso però a vedere il santo e poi il tempo. Oggi è San Paolino, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.50. Il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi prevede un cielo sereno poco nuvoloso, per domani martedì lo stesso cielo sereno su tutta la regione Marche. Indicazioni di tempo stabile anche per il resto della settimana. E allora Far West, il titolo del Corriere Adriatico edizione di Pesaro, Far West dove? In spiaggia, con risse e bivacchi, la rabbia dei bagnini del lungomare Sauro che ogni fine settimana si trasforma nella terra di nessuno. I gestori degli stabilimenti di Levante, siamo sempre a Pesaro, minacciano l'esposto al prefetto. Chiudiamo gli accessi di notte, gli accessi alle spiagge. Intanto l'albergatore Pinoli dice sconto le camere perché ho bisogno di soldi per pagare il personale. Di in breve, le altre notizie sempre dalla prima pagina del Corriere, otto testimonial di musica e sport lanciano la città di Pesaro. Stradomenica piace il mercato formato large, quindi più grande. Turismo è affano, turismo è allarme per bed and breakfast e camperisti abusivi. La cronaca, un'auto che piomba sui campeggiatori, una ragazza pesarese è gravissima. L'incidente è accaduto nella notte a Cupra Marittima. L'investitore aveva trascorso la serata con la comitiva. Questo è invece il Carlino di Pesaro, giovane travolta, dramma in vacanza. Stava tornando al camping con gli amici, una 24enne di Sasso Corvario investita da un'auto. Adesso è ricoverata in gravi condizioni. Giornata di passione invece, soprattutto nelle ore di ritorno dal mare. L'ipotesi dell'assessore Belloni, senso unico nel pomeriggio. Stiamo parlando dei lavori al ponte e le file di automobili infinite, soprattutto la domenica, quando passare lì diventa un incubo il titolo, i dannati di via Colbe. Sapete ancora ci sono i lavori qua sul ponte della Statale 16, quindi necessariamente bisogna passare sotto e quindi inevitabilmente ci sono comunque delle cote. Covid invece, sono sei i giorni senza decessi. Sì, sesto giorno consecutivo senza decessi correlati al coronavirus nelle Marche. Il totale delle vittime dunque resta fermo a 994. Ieri inoltre non sono stati accertati nuovi casi di Covid-19, se si eccettuano i tre relativi controlli specifici sull'hotel House, dove c'è questo focolaio, ma che è stato subito circoscritto e si sta spegnendo. La guerra nel Partito Democratico, Ricci Ceriscioli, così Pesero ha perso la guida regionale, affano uno scontro tra Scooter, una donna che è finita al Torrette di Ancona, Moretti, Ramagli e non solo WL, conto alla rovescia per trovare il nuovo allenatore. Questa è la prima pagina del resto del Carlino. Ecco allora il Corriere invece con il volto del candidato governatore, eccolo qua, del centrodestra. Stiamo parlando di Acquaroli. Alla fine la spuntata Giorgia Meloni, il candidato governatore per il centrodestra nelle Marche, era e resta Francesco Acquaroli, ex sindaco di Potenza Picena e deputato di Fratelli d'Italia. Giorgia, la combattente, ha tenuto il punto per sei mesi senza spostarsi di un millimetro, nonostante in tutto questo tempo si siano rincorsi, rumors che ipotizzavano colpi di scena e dribbling in zona Cesarini. Ieri le prime ammissioni anche di Salvini in assenza di un comunicato ufficiale. Salvini ha detto sto lavorando personalmente ad un'intesa complessiva e da leader del primo partito e della coalizione sono pronto a fare un passo indietro se sarà necessario, pur di trovare una intesa. L'accordo finale sarebbe stato raggiunto dunque nella tarda serata di venerdì con il benestare di Silvio Berlusconi e la soddisfazione in casa di Fratelli d'Italia che piazza dunque definitivamente Fitto in Puglia e Acquaroli appunto nelle Marche. Acquaroli che dice tempestato, sono stato tempestato di chiamate, ma io ho sempre avuto fiducia in Giorgia Meloni. Il Corriere fa un piccolo riquadro con la carta d'identità di Francesco Acquaroli che come abbiamo detto è nato a Macerata, ha 45 anni, una laurea in Economia e Amministrazione d'Impresa all'Università Politecnica delle Marche, di professione fa il consulente finanziario, milita nel partito, come abbiamo visto, di Fratelli d'Italia, è stato sindaco di Potenza Picena dal 2014 al 2018 ed è deputato oggi dal 23 marzo 2018 ed è membro della Sesta Commissione Finanze. Sull'altro versante invece il Carlino scrive PD lacerato tra Ceriscioli e Ricci, così si è persa la leadership regionale, la sconfitta della Federazione Pesarese ha fornito al resto delle Marche l'occasione che aspettava. La supremazia che era stata raggiunta si è infranta sui problemi del Governatore e le aspirazioni del sindaco di Pesaro Ricci. E adesso la pagina che invece riguarda il Covid. Anche oggi facciamo una sorta di aggiornamento per vedere come stanno andando le cose, per capire se dobbiamo davvero cominciare a stare tranquilli, come andiamo dicendo ormai da settimane, cominciare non ad abbassare totalmente la guardia, ma perlomeno a non vivere nel terrore. Allora, l'OMS, e qui già diciamo tutto, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dimezza di fatto la quarantena, liberi dopo dieci giorni senza sintomi. Cambiano ancora queste linee guida e basta, dicono, con il doppio tampone. Il nostro Governo però valuta di allinearsi. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che non è però, lo ricordiamo, non è un medico, è un politico, a questa delega importantissima, però cauto come sempre, ha invitato il Comitato Tecnico Scientifico a valutare le nuove linee guida che possono incidere, dice lui, significativamente sulle disposizioni, signora, adottate nel nostro Paese. Se ne riparlerà tra qualche giorno. E intanto questi poveretti stanno dentro casa, magari in buona salute, ma perché noi abbiamo tempo da perdere, quindi state tranquillamente a casa. Aspettate che il Comitato Tecnico Scientifico, con calma, decida se adottare le linee, queste nuove linee, dell'OMS oppure no. E allora, prendiamo spunto, perché sennò poi pare che la polemica la faccia soltanto io, perché ho voglia di far polemica, ma io a questo punto gliela faccio fare a Gabriele Canè, che questa mattina scrive sul resto del Carlino le giravolte dei soloni, cioè di quelli che sanno tutto loro, sul Covid, del Covid. Allora, il Ministro Speranza, persona educata, ha osservato che questo cambiamento, come abbiamo appena visto, questo cambiamento può incidere sulle disposizioni adottate, cioè sul fatto di dimezzare, così come dice l'OMS adesso, la quarantena. Altro che incidere, rivoluzionare, e siccome non può farlo il Ministro, nel nostro piccolissimo, ci pensiamo noi a mandare a quel Paese quei signori che dal primo giorno del virus non fanno altro che confondere. I signori sono quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché noi non siamo nessuno e loro sono scienziati, ma siccome due indizi fanno una prova, e qui di indizi ce n'è una montagna, possiamo permettercelo. E allora, riassumiamo. Prima sono arrivati in ritardo sull'allarme e sulla aggressività del virus, tanto da sembrare una succursale del governo cinese, gravissimo. Poi hanno iniziato un balletto, che ancora continua, sull'utilità delle mascherine, destabilizzante. Pochi giorni fa hanno addirittura stabilito che i guanti non sono obbligatori, ma dannosi. E ci meravigliamo se la gente poi alterna timori ancestrali a liberi tutti. Allora, signor Ministro, facciamo una cosa, scrive Canè. Fidiamoci di noi, dei nostri medici, soprattutto che vivono tra la gente e tra i malati. Sentiamo loro e basta. E se l'OMS si offende, nessun problema. Siamo autorizzati a non trattarli con i guanti. Questo invece è, sempre sul resto del Carlino, l'altro articolo che riguarda la lotta al coronavirus. L'Italia si adegui, la pandemia è alla fine, dice l'immunologo la foche. Le foche che nel nostro paese, dice, il virus ormai circola sempre meno. All'aperto rispettiamo le regole e togliamo le mascherine. Non si può vedere tutta questa gente che addirittura ancora fa sport, oppure camminate in collina, quindi con una certa fatica, perché un conto in pianura, ma in collina. Quindi c'è uno sforzo fisico importante. Ebbene, con queste mascherine all'aperto, dove non c'è assolutamente nessuno, se non qualche uccellino. Ecco, negli ambienti chiusi, dice questo infettoio, questo medico, ecco così la tagliamo corta, negli ambienti chiusi ancora prematuro, dice lui, smettere di usare questi dispositivi. All'aperto però, visto che le temperature si stanno alzando, e che la quantità di virus che circola è scarsa, potremmo iniziare a pensare di togliere le mascherine. Chi fa sport all'aperto, ad esempio, è assurdo che le indossi. L'hotel house, nelle Marche, la situazione è tutto sommato assolutamente tranquilla, sotto controllo, però c'è questo piccolo focolaio all'interno di questo condominio, che chiamarlo condominio sembra un po' riduttivo, nel senso che è un super condominio, ci sono più di mille persone all'interno, sta a Porto Recanati, e dentro sono stati trovati otto persone positive in questo maxi condominio. Ma nel resto della regione, come dicevamo, è tutto tranquillo, non ci sono positivi, zero positivi su 888 tamponi. Sono tutti casi asintomatici, tranne qua, tranne quello dell'untore, quindi possiamo dire il paziente 1 dell'hotel house di questo maxi condominio, che è un cittadino di origini pakistane, che è stato trovato appunto positivo, ha contagiato qualcuno lì all'interno di questo maxi condominio, però, ripeto, non c'è nulla di preoccupante, perché sono tutti, intanto sono stati tutti monitorati tramite tamponi, però anche nei prossimi giorni, insomma, si continuerà e di conseguenza è tutto circoscritto, dovranno rimanere lì bloccati dentro e quindi non c'è il pericolo che venga, che questo virus esca da questo condominio. La cronaca, la cronaca sul resto del Carlino, travolta da un'auto mentre torna al camping, è ricoverata in gravi condizioni, una 24enne di Sasso Corvaro Auditore, la giovane camminava sul ciglio della strada, queste sono le immagini delle automobili sotto la quale è finita questa ragazza di 24 anni, in questa strada non c'era il marciapiede, è finita sotto l'Alfa Romeo, la giovane era in compagnia di 4-5 amici della nostra provincia, dopo aver trascorso la serata nella località balneare del Piceno, verso le 3.30 del mattino, stava facendo ritorno al villaggio Verde Cupra a piedi, costeggiando la carreggiata in fila indiana, con i compagni che sono rimasti miracolosamente, miracolosamente tra l'altro illesi. Al volante c'era un 34enne nato in Brasile, ma residente a Cupra Marittima. Marcello Gliezzi in questo articolo sul giornale racconta la dinamica di questo terribile incidente, ovviamente facciamo gli auguri a questa ragazza di pronta guarigione, così come facciamo gli auguri di pronta guarigione anche a queste persone che sono rimaste invece a Fano ieri nel pomeriggio, ferite in uno scontro tra scooter a Metauriglia di Fano. È arrivata anche l'eliambulanza, c'è una signora di 60 anni travolta da questo altro scooter, mentre attendeva di svoltare per fare il rifornimento in una stazione di carburante. L'altro conducente invece, quindi la signora ha 60 anni, l'altro conducente invece ha 45 anni, ed è finito dentro un fosso. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Intanto, sempre ieri sul Monte Catria, nel Pesarese un escursionista cade e si frattura una gamba, è stata, anzi, perché si tratta di una Pesarese di 55 anni, ha riportato una frattura alla gamba sinistra ed è stata trasportata all'ospedale di Urbino. Questo incidente è avvenuto intorno alle 4 e mezzo del pomeriggio, lungo un sentiero che porta al rifugio Cotaline, che parte da frontone nei pressi della stazione della Fluivia e sale praticamente fino a 1.400 metri d'altitudine. Sulla pagina di Fano, del Corriere Adriatico, si parla di turismo e soprattutto della piaga del turismo, cioè l'abusivismo. L'abusivismo che, come in tutti i campi, in tutti i settori, quando c'è qualcuno che fa le cose non in regola, frena in questo caso la ripartenza del settore appunto turistico. La segnalazione è del Presidente degli albergatori, bed and breakfast, case vacanze e aree camper, e dunque è una piaga difficile questa dell'abusivismo da curare e che continua anche ad affliggere il turismo fanese, dove si annidano importanti sacche di abusivismo. Cioè non sono pochi quelli che fanno le cose tra virgolette di nascosto, cioè che affittano la casa, l'appartamento, la stanza a turisti che accettano evidentemente di danneggiare la nostra città, di danneggiare il nostro settore e magari per risparmiare due soldi qualche euro accettano appunto anche di alloggiare in una struttura abusiva, diciamolo usando il termine giusto. Allora, in questo momento il turismo fanese è impegnato a risalire la china dopo lo stop imposto alla mobilità dei cittadini italiani dalla diffusione del coronavirus. È un momento delicato, scrive Massimo Fughetti questa mattina sul giornale, è un momento delicato nel quale gli sforzi di tutti gli operatori insieme a quelli dell'amministrazione comunale dovrebbero essere condotti in un'unica direzione. Invece purtroppo i segnali percepiti dall'ufficio turismo dimostrano che molti vanno per conto loro contando soprattutto a far prevalere il proprio interesse personale. Vita mia, mortua vita mia, insomma, questo è un po' quello che probabilmente ognuno ha nella sua testa. Uno scontro, anche qui di taglio basso, scontro tra ciclomotori, una donna gravissima, questa è la statale 16 Adriatica, siamo a Metauriglia, vedete il distributore dove questa donna di 60 anni stava, dove voleva andare per fare evidentemente rifornimento. Un altro scooter che viaggiava sulla stessa direzione, evidentemente non ha visto questa donna che stava o ferma o stava girando e quindi l'ha centrata. Questo è lo scooter che è rimasto lì, sul lato della carreggiata. Ripeto, questa donna di 60 anni che adesso si trova ricoverata in rianimazione alla Torrette di Ancona. Sempre purtroppo in tema di incidenti, andiamo a Corinaldo. Schianto shock, la moto si spezza in due. David Panni, che è questo signore che vedete nella fotografia, muore 11 giorni dopo sua sorella. Lo chef Panni senigalliese perde la vita a Corinaldo. Il 10 giugno era scomparsa Deborah. È un terribile schianto in Via Nevola ieri pomeriggio, costato la vita al centauro Panni, 51 anni, di Senigallia. È una tragedia nella tragedia. La vittima infatti aveva perso, 11 giorni prima, lo scorso 10 giugno, la sorella Deborah, imprenditrice balneare di 47 anni, uccisa da un tumore. L'incidente si è verificato verso le 17.30 a Corinaldo, quasi al confine con Castellione di Suasa. Il 51enne in sela alla sua moto si stava recando al lavoro quando si è scontrato con una Citroen C3 guidata da una 41enne di Osimo. l'impatto quasi frontale è stato devastante. Una Opel invece sbanda, e qui siamo a stravetere, sbanda e finisce la sua corsa contro una quercia. Questa è la fotografia. Un ragazzo è grave all'uscita di una curva in Contrada Burello, è stato trasportato all'ospedale dall'embulanza. È un 19enne che ha riportato ferite molto gravi ed è stato trasferito all'ospedale regionale di Torrente. Questa invece è la pagina di Fano del Corriere Adriatico. 2.000 tonnellate di CO2 in meno con la raccolta porta a porta spinta. Un progetto pionieristico del Comune di Terre Roveresche. Bonus a favore degli utenti. Il Sindaco ne parla Antonio Sebastianelli. Ed è soddisfatto, ovviamente Sebastianelli dice abbiamo avviato un percorso sperimentale unico in Italia. E questa invece è la pagina di Pesaro con i volti di coloro che mettono la faccia per rilanciare Pesaro dal punto di vista turistico per le vacanze. Il Comune sceglie infatti 8, 2, 4, 6, 8 testimonia. Sì, 8 volti locali dello sport e anche della musica e lancia la campagna social. Ad affiancare Ambrosini e Magnini arrivano Florez, Alaimo, Mariotti, lì con Costa Grande e Magneri. E questo, dice Ricevimini di Croci, si rivolge agli italiani che vogliono vivere un'estate in sicurezza puntando sugli spazi da offrire. Urbino, tutte le zone interne umiliate. Ospedale unico provinciale, ora basta, dice Francesco Baldelli che esorta quanti protestano per i mancati posti letto alla rivolta contro il piano sanitario regionale. Urbino e l'entroterra sono stati umiliati. Questi i frutti della politica sanitaria del partito di Ceriscioli e Mangialardi. Protesta l'ex sindaco di Pergola, Francesco Baldelli. L'intervento dei dirigenti di Asur e dell'area Vasta 1 in difesa della scelta politico-amministrativa della Giunta regionale delle Marche, cioè di concentrare nell'ospedale di Pesero le risorse aggiuntive destinate alla provincia di Pesero-Urbino per fronteggiare future emergenze epidemiche, invece di placare la protesta di Urbino, ha acceso ed esteso la polemica politica che infiamma in vista delle elezioni regionali. Noi non siamo di serie B, i sindaci si uniscano, il primo cittadino di Petriano rivolge un appello ai colleghi affinché la regione ci ripensi. Due milioni per la sicurezza, il sindaco di Mondolfo in visita alla Fermi. C'è stato un sopralluogo del sindaco Nicola Barbieri accompagnato dai tecnici nel plesso scolastico Enrico Fermi dove in queste settimane sono iniziati lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Un intervento di circa due milioni di euro fortemente voluto dalla Giunta guidata da Nicola Barbieri. Un percorso partito prima con le verifiche sismiche, proseguito con la redazione dei progetti e la partecipazione ai bandi e poi si è concluso con l'ottenimento dei soldi, dei finanziamenti. L'ANAS invece asfalta la Pergolese, dunque chiusura per tre giorni nel tratto di Mondolfo e a partire da oggi inizierà questi importanti, tra l'altro, lavori di asfaltatura della 424 Pergolese da Marotta fino a Cento Croci con l'obiettivo di renderla più sicura per tutti coloro che ogni giorno la percorrono. Sotto invece riaprono sempre a Mondolfo i musei civici in notturna nel fine settimana, visitabili tutti i giorni salvo il mercoledì e il giovedì ed ecco che il giornale pubblica anche gli orari differenziati. Da Senigallia code e ressa per l'isola pedonale, in spiaggia altri ride dei Balordi, sabato sera da incubo per il traffico, i bulli sfidano i bagnini, sfregiata la torretta di salvataggio, dunque un debutto senza precedenti per quest'isola pedonale in vigore sabato fino a luna nel tratto centrale del lungomare a Lighieri tra la Rotonda e il Ponte Rosso, ma i vigili urbani hanno dovuto lasciare le transenne fino alle tre di notte. Sul lungomare sempre di Senigallia da Vinci, il traffico, il collasso, il senso unico ha creato tre chilometri di Ingorghi in direzione di Marzocca. L'ultime due pagine di questa nostra rassegna stampa le vogliamo dedicare allo sport e soprattutto all'Alma Juventus Fano, la nostra squadra di calcio cittadina. È una settimana per i Granata cruciale, soprattutto per il loro futuro. Sabato c'è l'andata dei play-out che si disputerà al Mancini contro il Ravenna. Il Fano deve provare il colpaccio, dunque inizia oggi quella che è una settimana cruciale per tutta l'annata dell'Alma, che sabato scenderà in campo per la prima delle due sfide che determineranno la permanenza tra i professionisti, quindi in Serie C del Club Granata, oppure il suo mesto e pericoloso ritorno in Serie D, quindi tra i dilettanti. L'ostacolo da superare, come si chiama? Si chiama Ravenna. È la squadra da battere, una compagine che al momento dell'interruzione del campionato a causa del Covid stazionava al quintultimo posto con un distacco di sei lunghezze dai ragazzi allenati da mister Alessandrini, che comunque resta fiducioso. Nella stagione regolare due pareggi tra Granata e Giallorossi, dunque l'obiettivo è assolutamente raggiungibile. Le porte sono chiuse, scrive il resto del Carlino, ma i tifosi del Fano si mobilitano. La loro assenza, dice Mei, ovviamente peserà, perché si giocherà senza tifoseria. Tuttavia i supporter non mollano, si stanno organizzando per sostenere comunque la squadra al Mancini. Ora, Sandro Candelora, che è un innamorato dell'Alma Juventus Fano, della squadra Granata, è un collega, un giornalista, lancia una idea, un'ipotesi, che credo si possa anche, volendo realizzare, dice, anzi propone, di utilizzare i balconi dei condomini che si affacciano sullo stadio. Chi conosce a Fano lo stadio Mancini sa dove è ubicato, sa perfettamente che ci sono decine e decine di finestre che si affacciano e che danno proprio sullo stadio, come se fosse una tribuna in verticale disposta su 5, 6, 7 piani. Ora, potrebbe anche essere, anche a livello scenografico, pensiamo, per esempio, che cosa può essere per i giocatori del Fano vedere che, sì, nelle tribune, nella gradinata, non ci sono le persone, però dai balconi di questi palazzi, poi magari vi farebbero vedere qualche immagine, qualche fotografia, dai balconi di questi palazzi, non so, qualche striscione, qualche bandiera e anche qualche tifoso che magari può incitare laddove le famiglie, ovviamente, li ospiteranno per incitare appunto la propria squadra. Potrebbe essere un bel incoraggiamento e anche una bella idea che ha avuto Sandro Candelora. Noi con questo ci fermiamo, la rassegna termina qui. Per tutte le altre informazioni c'è il sito internet occhianotizia.it e il numero che avete appena visto sul vostro televisore. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.